Grande Marcello, grande! Allora, siamo alle 5.53, ormai sono 24, anzi più di 24 ore che siamo in attività fissa, 580 km, stiamo percorrendo in questo momento la strada verso il passo Godi, abbiamo di fronte a noi, 13 km di salita tra queste montagne, sono talmente boschive che i cervi scendono fino al paese, abbiamo anche la prova fotografica di questo, ce l'abbiamo, Marcello sta tenendo duro, siamo ancora a 28 km di media, dopo 580 km la temperatura è scesa a 14 gradi centigradi come potete vedere, ha partito un po' il freddo, però rispetto a quello che si è buttato alle spalle i segni di stanchezza e di cedimento a nostro avviso sono minimi, contenuti, contenuti, e la cosa più importante è che siamo in prima posizione, sta veramente facendo la Sua Rai Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti